Si dice sempre che quando si fa un libro è come se nascesse un nuovo figlio. Per quanto riguarda me questo libro sulla Duchenne ha la stessa valenza, nel senso che io mi sono avvicinato il mondo delle malattie rare per un fatto personale. Lo racconto come come aneddoto ma insomma per spiegare anche perché poi si arriva a realizzare un libro come sulla malattia di Duchenne. Mia figlia aveva otto anni quando cadendo si ruppe il femore. Inizialmente sembrava una cosa dovuta a un motivo accidentale. Dopo vari istituti neanche ospedalieri capimmo che non era così. La rottura era stata determinata da una patologia che si chiama astogenesi imperfetta che rientra nell'ambito delle patologie rare. Come genitori ci siamo subito un po' allarmati poi come tanti ci siamo rivolti alle associazioni pazienti eccetera. Ad oggi lei ha una situazione migliorata nel tempo grazie anche alle cure. Da quel momento, parliamo del 2001, io mi sono molto avvicinato a questa tematica e quando mi è stato proposto la possibilità di realizzare questo libro abbiamo subito cercato di approcciarlo nel modo che intendevo e che penso sia anche piaciuto. Nel senso che per me non esistono malattie rare, esistono i malati, esistono le malattie, non ci sono malati o malattie di serie A e di serie B. E allo stesso tempo anche il tentativo di dare un approccio diverso alla patologia anche perché in quanto rara. E in questo il titolo del libro che abbiamo dato era appunto dal cambio di paradigma, dalla terapia farmaco alla terapia presa in carico. In questo, diciamo questo nuovo indirizzo, abbiamo cercato di coinvolgere i vari attori che ruotano attorno alla patologia, quindi il mondo delle istituzioni, il mondo della ricerca, il mondo dei pazienti e il mondo anche, come dire, di chi vive sulla propria pelle questa storia, come il caso per esempio di Luca Buccella. L'idea diciamo è non soltanto quella di dare, come dire, un approccio positivo, no? Perché insomma chi sta male vive sempre con una certa angoscia la propria situazione, però è farli sentire comunque al centro del progetto, al centro del rapporto, al centro della malattia e non soltanto come elemento finale di una semplice terapia, perché lo slogan che abbiamo poi coniato è quello che ci sembra più bello e col quale posso anche concludere questa presentazione. L'idea del progetto sulla Duchenne è quello di dare vita agli anni e non anni alla vita a Paola Binetti. Da terapia farmaco a terapia presa in carico, quanto le istituzioni possono fare per questo cambiamento? Abbiamo bisogno di una rivoluzione copernicana nel trattamento della Duchenne che è quello di passare dal trattamento farmacocentrato a un trattamento che pur utilizzando i farmaci, i migliori farmaci disponibili sul mercato, riesce però a integrarli in una visione di insieme che tiene conto di tutti i bisogni del bambino, tiene conto dei suoi bisogni sul piano scolastico e quindi della sua integrazione sociale, tiene conto dei suoi bisogni anche sul piano delle attività sportive possibili nelle sue condizioni, tiene bisogno della sua capacità e della sua necessità di relazionarsi con i coetanei in esperienze di gioco che siano belle, che siano piacevoli e che siano gratificanti per lui. Tiene conto dell'aiuto che può venire dalla musica, dall'arte, dal teatro, qualunque tipo di manifestazione che lo aiuti a sentirsi parte viva della società in cui vive e questo in genere è il capolavoro dei suoi genitori, mette a sua disposizione una rete di opportunità e permette di scegliere quelle che lui preferisce. Noi vogliamo che il bambino con la Duchenne sia un bambino felice, felice nonostante la sua malattia ma felice anche perché la sua malattia gli permette comunque di fare alcune esperienze che lo avvicinano a quel mondo fatto forse probabilmente di desideri, di sogni che tante volte sembra fin troppo lontano. Come per tutti i bambini a volte sono le cose piccole quelle che fanno la differenza e una terapia centrata sui desideri è una terapia che può essere straordinariamente efficace, certamente accompagnata dal farmaco ma non ridotta esclusivamente al farmaco. Tolo parola adesso a Mattia Doria per sapere come nasce il progetto Peter Pan e quali sono gli obiettivi che si prefigge questo progetto. Peter Pan è un progetto nazionale, un progetto promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri che ha l'obiettivo di aiutare i pediatri di famiglia nel loro ruolo di sentinelle attive dello sviluppo neuromotorio dei bambini promuovendo attività volte al riconoscimento precoce delle situazioni anomale e al loro avvio verso percorsi diagnostici più appropriati. Il progetto si sviluppa all'interno di un percorso professionalizzante che la FIMPA ha intrapreso alcuni anni fa all'interno della rete Pediatria Neuropsichiatria Infantile che si è costituita presso l'Istituto Superiore di Sanità e che ha come obiettivo quello di definire strumenti e strategie per il riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo di cui appunto le malattie neuromuscolari fanno parte. Di fatto nell'ambito di quella che possiamo definire la galassia multiforme dei disturbi del neurosviluppo le malattie neuromuscolari rappresentano da sempre un campo di particolare interesse per la pediatria di famiglia. Il motivo è chiaro, il pediatra di famiglia, la pediatria di famiglia è quella che ha il compito specifico di operare una sistematica valutazione neuromotoria del bambino all'interno di quel percorso complessivo di osservazione longitudinale delle competenze attese anche su altri ambiti che sono previste dalle attività dei bilanci di salute che si sviluppano di mese in mese, di periodo in periodo, dalla nascita in poi. Quali sono stati i passi di questo progetto? Innanzitutto la realizzazione di un documento di raccomandazione sul ritardo neuromotorio del bambino che ha permesso di identificare degli item, delle osservazioni, delle competenze tipiche del bambino nei diversi stadi del suo sviluppo e quindi poi il coinvolgimento della comunità dei pediatri di famiglia italiana per la messa a punto proprio di strumenti pratici per trasferire le conoscenze scientifiche nella pratica clinica di tutti i giorni. Di fatto è stata realizzata una scheda per riportare utile, per riportare e segnalare gli elementi, le caratteristiche dello sviluppo del bambino e poi lo sviluppo di attività formative di tipo ECM utili ad approfondire la tematica. Ultimo ma non ultimo sono stati predisposti degli strumenti per informare, utili a stabilire, a rafforzare un'alleanza maggiore e a rafforzarla tra la pediatria e le famiglie dei bambini assistiti in modo tale da veicolare le informazioni utili a ottenere una diagnosi tempestiva. Insomma questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra la pediatria di famiglia, tra gli specialisti della malattia neuromuscolari e le famiglie dei bambini e delle persone affette da malattie neuromuscolari. Una strategia, una modalità di collaborazione che può diventare proprio un paradigma da applicare anche a molte altre realtà. A Vincenzo Falco e Alessandra Baroni, come è nata l'idea delle Neuromuscular Rare Disease Education Specialist? In tutti i progetti di awareness si cerca sempre di mettere a punto gli strumenti più efficaci e anche di utilizzare i canali di comunicazione più efficaci. Ora non c'è dubbio che almeno in Italia il contatto face to face sia ancora quello più efficace per quanto riguarda l'informazione scientifica, ma noi avevamo un problemino di ristrettezza di risorse e quindi abbiamo dovuto scegliere e quindi ci siamo posti due obiettivi. Il primo era quello di concentrare le risorse delle nostre educational specialist in alcune aree critiche, critiche dal punto di vista del ritardo rispetto a dei parametri che avevamo individuato e in secondo luogo avere la possibilità di raccogliere, di creare dei benchmark e quindi anche degli indicatori di performance per valutare poi successivamente l'efficacia di tutta la campagna. Le reazioni alla comparsa sulla scena delle nostre NRDS, le reazioni iniziali sono state inizialmente di una certa diffidenza. In realtà non si riusciva a far passare il messaggio che le nostre ragazze non andassero a visitare i pediatri perché volevano vendere qualche cosa. In effetti poi rapidamente questo tipo di atteggiamento è cambiato e quindi si è passati da un'attenzione a poi una spesso chiara e aperta richiesta di collaborazione e quindi quello che abbiamo potuto valutare poi in termini di performance della campagna è stato che sugli indicatori che avevamo prefissato la campagna nelle zone in cui erano presenti, sono state presenti queste le nostre Educational Specialist, è stata da 2 a 5 volte più efficaci. Il progetto delle Neuromuscular Disease Educational Specialist nasce da un'intuizione che è avvenuta assieme alla FIMP, Parent Project, UDM ed AIM, in cui ovviamente PTC ha supportato questa intuizione che è stata quella di affiancare il pediatra nel suo ruolo principe, quindi il primo gate control nella presa in carico del bambino uscito dal punto nascita. Fondamentalmente il ruolo di queste ragazze è stato quello di concentrare, rifocalizzare il pediatra su quello che normalmente già il pediatra faceva, cioè l'osservazione longitudinale del bambino che prende in carico appunto uscito dal punto nascita. Rifocalizzare su cosa? Rifocalizzare su quelle che sono le red flag comunemente detti oppure i campanelli di allarme se vogliamo chiamarli così, su quelli che possono essere degli indicatori precoce di una possibile malattia neuromuscolare, sulla quale quindi il pediatra gioca un ruolo fondamentale. La risposta dei pediatri a questo gruppo di ragazze è stata a dir poco entusiasmante in quanto si sono sentiti subito alleati sul territorio, tant'è vero che insieme nelle singole realtà dove queste ragazze hanno operato sono stati in grado di costruire proprio questa diagnosi precoce e soprattutto l'altra cosa importante è stata quella che il pediatra si è sentito confidente nel poter fare un referral precoce di questi bambini che potenzialmente sono stati ovviamente identificati perché questo è un altro anello che mancava un po' al pediatra cioè una volta che si fa la diagnosi di una malattia soprattutto rara poi spesso ci sono delle lungaggini per affidare il bambino al centro di terzo livello. Ecco diciamo che queste ragazze sono state né nell'anello iniziale né quello in mezzo né quello finale ma in realtà sono state una vera e propria catena circolare iniziando dalla sensibilizzazione appunto come detto degli altri specifici, il punto di riferimento per creare quel bridge con il centro di terzo livello e poi ovviamente hanno continuato a supportare il pediatra che magari ha avuto la possibilità di fare una diagnosi precoce per quante malattie anomoscolari. Quindi diciamo che in una sola parola la risposta dei pediatri è stata vincente nel senso che comunque hanno accolto e hanno apprezzato questo supporto che è venuto in maniera assolutamente professionale da parte delle Neuromuscular Rare Disease Educational Specialist. Alle ragazze delle Neuromuscular Rare Disease Educational Specialist voglio fare due domande. La prima è in merito al vostro obiettivo che era quello di far sì che i tanti pediatri di famiglia sul territorio nazionale fossero debitamente informati sulle malattie neuromuscolari rare e sui segni e i sintomi tipici che possono permettere una diagnosi precoce di queste patologie. Secondo voi qual è stato il risultato del vostro lavoro? Il progetto Peter Pan è nato con l'obiettivo in primis di ridurre l'età di diagnosi delle malattie neuromuscolari, poi anche cambiare il paradigma da terapia farmaco a terapia presa in carico e anche apportare delle modifiche a quelli che sono i bilanci di salute. In questi due anni di lavoro effettivamente l'età di diagnosi è stata ridotta dai 5 anni a circa 3 anni e questo ha un impatto fortissimo nella storia naturale di un paziente perché permette l'allungamento della deambulazione di oltre 3 anni e l'età di morte di oltre 5 anni. Oggi poi la terapia non viene più associata al farmaco ma alla presa in carico, infatti il progetto Mille Giorni del Ministero della Salute lo ha certificato. Avevamo poi anche l'obiettivo di apportare delle modifiche a quelli che sono i bilanci di salute ed effettivamente l'Istituto Superiore della Sanità nel dicembre 2020 ha inserito i check relativi alle tappe neuromotorie e del neurosviluppo. Noi ragazze poi avevamo anche l'obiettivo di fornire ai pediatri tutti gli strumenti necessari per ridurre i tempi di diagnosi ma anche connetterli ai centri di terzo livello per una presa in carico precoce. I cambiamenti solitamente richiedono molto tempo, invece grazie a questo progetto, al progetto Peter Pan, siamo entrati subito in confidenza con i pediatri perché avevano esigenza di saperne di più. Infatti durante appunto questo periodo, fin dei primi mesi, abbiamo ricevuto molte segnalazioni di CPK richieste ma anche di diagnosi fatte e durante questi due anni abbiamo fatto passare l'età di diagnosi dai sette anni, che purtroppo appunto era troppo avanzata, ai due anni virgola 9. Questo è stato un grandissimo risultato del progetto. I pediatri più confidenti sono stati anche utili per delle collaborazioni e per creare come una guida appunto per coloro che invece avevano più dubbi riguardo all'Arena Romosoia. È stata una bellissima collaborazione sul territorio e anche appunto a livello personale con i pediatri. Lo straordinario risultato è aver contribuito ad abbassare l'età media di diagnosi, riducendo il famoso gap e aver contribuito in maniera sostanziale all'implementazione dei bilanci di salute, focalizzando così l'attenzione del pediatra sui potenziali campanelli di allarme e dando il via all'attivazione di tutti gli stakeholders. Il risultato del nostro lavoro ci ha sorpreso e reso orgogliose del nostro ruolo. Nei vari territori siamo riuscite a dar valore al ruolo del pediatra di famiglia, che attraverso i bilanci di salute previsti per tutti i pazienti può valutare lo sviluppo neuromotorio infantile. Abbiamo contribuito ad aumentare la consapevolezza degli stessi nel porre la giusta attenzione al problema delle malattie neuromuscolari attraverso attività e processi di osservazione e monitoraggio del neurosviluppo. Grazie al progetto siamo riuscite ad ottenere risultati importanti che meritano di essere valorizzati e resi pubblici su tutto il territorio nazionale. Parliamo di quella che è stata una piccola rivoluzione nella awareness in campo pediatrico. È un cambio di paradigma che ci ha portato a continue sfide quotidiane, ad oltrepassare le convenzioni tipiche dell'informazione scientifica che però in meno di due anni hanno portato i loro frutti. Una presa in carico precoce che può davvero fare la differenza sia per le famiglie ma soprattutto per il paziente. Che sensazioni vi lascia questa esperienza sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano? Sicuramente è un'esperienza che ci ha cambiato, che ci ha lasciato il segno sia dal punto di vista personale che professionale. Pensare di aver contribuito al miglioramento della qualità di vita di questi pazienti grazie a una diagnosi precoce, grazie al nostro lavoro è la cosa che mi rende più orgogliosa. Non è stato facile inserirsi in un contesto del genere. È stata una rivoluzione far comprendere al pediatra che cambiando approccio nei confronti di queste problematiche si possono ottenere dei risultati evidenti. Abbiamo lavorato sodo, non ci siamo arrese. Sono fiera del percorso che abbiamo fatto e dei risultati che abbiamo ottenuto. so che c'è ancora tantissimo che si può fare, però siamo sulla strada giusta. Questo percorso mi ha portato a un cambiamento, a una rivoluzione e mi lascia quella sensazione di rivoluzione positiva. Siamo riusciti tutti insieme a collaborare strettamente per il futuro di tanti bambini. E' stato bellissimo questo progetto perché è stato realmente condiviso e c'è stata una piena partecipazione sia da noi ragazze, coinvolgente appunto e con passione, ma anche dai pediatri che con entusiasmo hanno accolto questo progetto e hanno deciso di prendere in mano la loro responsabilità e di farne parte. Quindi sono certa che questo progetto nonostante i risultati che sono già arrivati siano eccezionali ne arriveranno ancora di altri e cambieremo davvero la vita di tanti bambini. La sensazione di aver fatto qualcosa di concreto per i bambini e per le famiglie. Di aver giocato un ruolo chiave all'interno delle malattie rare. Non come semplice spettatore, ma come giocatore attivo di una partita che non è conclusa, ma che porterà risultati inaspettati. È un'esperienza che mi lascia soddisfatta ed orgogliosa in quanto riconosco nel ruolo una forte responsabilità sociale con il fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti. Mi riempie di orgoglio sapere di essere stata tra i primi a mettere sul campo un piano per concretizzare il concetto di terapia uguale presa in carico. È un percorso che è solo agli argoli, ma che deve necessariamente continuare a crescere. Il riconoscimento più grande che potessi desiderare è la consapevolezza di aver aiutato anche solo un bambino e la sua famiglia a trovare delle risposte nel più breve tempo possibile. A Filippo Buccella e al figlio Luca, una domanda che riguarda proprio la loro testimonianza diretta. Soprattutto per Luca, come si convive e raccontare quindi la propria storia del malato di Duchenne. Convivo con la Duchenne da tutta la vita. Ho scoperto di averla a tre anni e l'ho sempre saputo, quindi ormai mi sono abituato a convivere con questa condizione e non mi pongo neanche più il problema. Direi che la cosa principale che bisogna imparare a fare è capire che questa è una malattia degenerativa. Quindi di anno in anno, di mese in mese cambiano le cose che posso e non posso fare e anche le cose per cui ho bisogno di aiuto. Ad esempio, per fare un esempio pratico, io nella vita lavoro come traduttore e scrivo le mie traduzioni al computer. Inizialmente lo facevo a mano sulla tastiera, poi ho dovuto imparare a usare un programma di dettatura perché sapevo che col tempo la funzionalità delle mie mani sarebbe diminuita. Quindi direi che in sintesi sta tutto qui. Imparare a gestire i cambiamenti che la malattia comporta. Cosa aspettarsi dal futuro? Dal futuro mi aspetta l'arrivo di nuovi medicinali e terapie che possano aiutarmi a mantenere stabile la mia qualità di vita, di miglioramenti nelle tecnologie che mi aiutino a gestire meglio questa mia condizione, quindi ausidi, nuove sedie a rotelle e cose di questo genere. Poi magari un cambiamento nella percezione della gente che vede ancora la disabilità come una cosa diversa e limitante e questa percezione della gente che alla fine è la cosa peggiore della nostra condizione, non tanto la disabilità fisica ma il modo in cui la gente ci vede. Quindi se questo migliorasse e se le barriere architettoniche diminuissero nel mondo, la nostra disabilità sarebbe molto meno difficoltosa a mio parere. Quindi in sintesi questi sono i cambiamenti che auspico. Con la testimonianza di Filippo e Luca Buccella vorrei approfittare per ringraziare un po' tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo libro. È un libro che tutto sommato è fatto di storie, di racconti, di testimonianze dirette sulla malattia di Toscena. Può essere definito un libro bianco, può essere definito anche la fotografia della malattia stessa ad oggi, ma se non ci fosse stato il contributo di tutti quelli che hanno preso parte avremmo avuto un lavoro diverso. Per questo è stato doveroso ringraziarli veramente e un forte abbraccio a tutti. Grazie. 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 Grazie.